Allora, siamo alla fine della partita, Real-Arsenal e insieme a noi i due protagonisti, allora, Daniele Cecchini, una scompista pesante, inaspettata, un pareggio, scusate, abbiamo ritagliato, 2-2, un pareggio inaspettato, eravate la squadra favorita. Sì, ma il campo ha dimostrato che Lanza nella nostra tossa, una squadra arcigna, ci aspettavamo cose migliori, ma abbiamo preso una travesta, tiri fuori, azioni belle ma inconcrute, che cazzo se tre punti che vanno via. Nicola ha vantaggi in grande spolvero, però questo forse ha condizionato molto la partita. Ma è il debutto, è la prima, non abbiamo mai giocato insieme, mai, quindi bisogna capire, bisogna capirci, quindi ci vuole tempo, ti forse di non attendere, ma noi promettiamo grande spettacolo e grande vittoria. Ok, ringrazio Cecchini. Ciao mamma. Allora, siamo adesso con Mazzia. Allora, questo pareggio anche per voi, una squadra giovane, una bella squadra. Sì, abbiamo giocato molto bene, un ottimo Puntina, Puntina è stato il meglio della squadra ragazzi. All'aereo. E niente, abbiamo giocato bene, ci siamo divertiti, abbiamo dato spettacolo, un pareggio che credevamo una sconfitta, eravamo sfavorite inizio della partita. E niente, vorrei andare a fare la luccia. Va bene, grazie, ti lasciamo. Adesso, grazie Mazzia, adesso siamo con Michele che ha la RF parte. Allora, Michele Cecchini, grandissima prestazione questa sera, gol, spettacolo, ma soprattutto divertimento allo stato puro. Sì, è stata una partita tosta, sono contento con il gol, ma anche perché la squadra ha giocato molto bene. Spero che la prossima partita vada meglio. Comunque non ci possiamo lamentare, come so, l'Arsen è una squadra molto crosta, gioca con una rete, un pochetto di passaggio, quindi è duro entrare. Soltanto è andato in vantaggio subito, poi è stato questo 1-2. Ecco, gol, primo gol, subito in vantaggio, la squadra sembrava, dopo il primo gol, addormentarsi un po' e l'Arsen ha preso il via con Puntina, grandissimo spolvero, un ottimo giocatore. Sì, siamo partiti molto forti, adesso speriamo che sia stato solo un caso della prima partita, comunque siamo partiti forti, poi abbiamo subito gli attacchi di l'Arsen, che hanno iniziato a giocare, hanno iniziato il troppo, quindi... Speriamo bene alla prossima. Va bene, va bene, grazie Michele, lasciamo andare allora. Amici, per oggi è tutto, ci vediamo giovedì per le altre partite, a voi studio, arrivederci.